Ho il mio microfono. Dunque, dicevamo tre domande uguali tutte per le stesse per i nostri cinque ospiti, domande che rivolgerebbe a loro il consumatore qualunque, quindi domande molto generiche che consentono loro di raccontare il loro punto di vista. Cominciamo allora, il tempo in questo caso ci insegue. Che rilevanza ha la contraffazione nel comparto lattiero caseario? Diciamo che nel comparto alimentare in generale la contraffazione è un fenomeno molto serio. Potremmo distinguerlo in due filoni che sono la contraffazione dei marchi e quell'altro che è la contraffazione più generica del cosiddetto dell'Italian Sounding, l'agropirateria, il made in Italy in generale. Per quanto riguarda la contraffazione dei marchi, forse è un fenomeno meno rilevante nell'alimentare, forse è più presente nel comparto delle pelletterie piuttosto che di altri fenomeni produttivi, però è molto serio perché quando riguarda l'alimentare riguarda chiaramente anche la sicurezza alimentare e quindi va combattuto con forte determinazione. Mentre invece nel caso della limitazione dei prodotti alimentari forse è meno rilevante l'aspetto della salute in termini di sicurezza alimentare, ma è invece un fenomeno molto diffuso. Hanno fatto già nei precedenti interventi diversi accenni. Io direi che soprattutto quando si va all'estero, si entra in un supermercato, in un punto vendita al di fuori dell'Europa in particolar modo, si trovano una quantità enorme di prodotti che suonano con dei nomi italiani, hanno bandierine, richiami al nostro territorio, richiami dei nostri luoghi più conosciuti ovviamente o dei nomi più comuni che rappresentano un po' l'Italia, il Made in Italy. Certo, è un fenomeno, ne facciamo qualche esempio che abbiamo fatto prima, come quello del parmesan, è un fenomeno molto diffuso, io sono anche un produttore di grana padano e parmigiano reggiano, quindi lo vivo in prima linea e troviamo appunto dal parmesan al parrano o troviamo altre fantasie che vengono messe in campo dai produttori un po' di tutto il mondo. Vorrei dire anche che da un certo punto di vista qualche volta ci lusinga questo fatto perché probabilmente facendo i prodotti talmente buoni, la nostra capacità di fare dei prodotti di alta qualità e di averli saputi far conoscere e diffondere un po' in tutto il mondo hanno fatto sì che tutti ce li vogliono copiare. Però tutto ciò può essere un rischio e questa è la seconda domanda, quali i rischi per il consumatore? I rischi per il consumatore, come dicevo prima, se guardiamo l'aspetto della contravazione dei marchi è un problema serio perché si ha a che fare con dei malavitosi e quindi bisogna capire che cosa utilizzano, che cosa mettono all'interno di questi prodotti diciamo in termini di sicurezza alimentare. Mentre invece se parliamo di imitazioni dei nostri prodotti forse il problema, ribadisco dal punto di vista alimentare, è meno rilevante per la salute perché molto spesso sono delle grandi imprese anche che all'estero fanno dei prodotti che sono anche discreti qualche volta in termini di soprattutto dei formaggi, cioè assomigliano a dei formaggi qualsiasi, certo è che sono estremamente lontani da quello che è la qualità dei nostri prodotti e non la rappresentano in nessun modo. Forse per le nostre imprese qualche volta è anche un'opportunità nel senso andiamo all'estero e cerchiamo di fare conoscere meglio la qualità del prodotto originale in modo che con una buona educazione del consumatore si possano conquistare diciamo degli spazi di mercato. Bene, un altro minuto e 15 secondi e 13 secondi per l'ultima domanda. Interessa a tutti noi davvero come si difende il consumatore e quindi come riconosce un prodotto contraffatto nel settore lattiero caseario. Qui è un rapporto, è una problematica un po' di fiducia dove mettiamo la marca. Io credo che una volta il consumatore o la signora Maria famosa si rivolgeva al negoziante di fiducia, oggi forse il rapporto di fiducia la signora Maria lo ha intrapreso con la marca perché la marca rappresenta il nome dell'azienda come vi dicevo anch'io sono oltre ad essere rappresentante del presidente della Solatel che raggruppa le imprese lattiero caseari italiane, sono un imprenditore, mi chiamo Giuseppe Ambrosi ho un'impresa che produce appunto Grandapadano e Parmigiano Reggiano che si chiama Ambrosi quindi i miei prodotti escono col mio nome e di conseguenza non è per fare uno spot ma è per fare esattamente un paragone sul fatto che tuteliamo l'immagine dei nostri prodotti difendiamo il nome, nomi costruiti diciamo con una lunga storia imprenditoriale nel mio caso sono 70 anni quindi mai vorrei andare a infangare o rovinare 70 anni di lavoro per mettere qualche cosa che non sia assolutamente nel rispetto di quello che il consumatore si aspetta e questo lo fanno direi tutti gli imprenditori del nostro settore che spendono il loro nome e la loro immagine scrivendola sui propri prodotti cioè firmandoli grazie a Giuseppe Ambrosi